Da più di un secolo, le comunità sorde in tutto il mondo si sono organizzate in associazioni rappresentative per promuovere i loro diritti umani. Le persone con disabilità, infatti, devono essere sempre coinvolte nei processi decisionali che riguardano le loro vite in considerazione delle loro esperienze e della conoscenza diretta delle esigenze reali, delle aspirazioni e dei diritti da espandere. Per applicare in pieno il principio del niente su di noi, senza di noi, le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, come l'ENS, devono essere messe nelle condizioni di lavorare. Per farlo, abbiamo bisogno anche di voi. Ogni piccolo contributo è importante per costruire insieme una società che consenta a tutte le persone sorde di emanciparsi, autodeterminarsi, realizzare se stessi e partecipare alla società su base di uguaglianza con gli altri. Puoi sostenerci donando gratuitamente il tuo 5x1000 all'ENS, facendo una donazione sulla pagina Facebook dell'ENS o un bonifico bancario. Oppure puoi entrare nella nostra famiglia diventando socio o socia dell'ENS. Grazie. 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 Grazie.